Settori Latina e Virtus Fondi danno vita a una gara vibrante ma ci sono state tantissime proteste da una parte e dall'altra. Vedremo che poi il direttore di gara sbaglierà in maniera evidente soltanto in questo episodio che poi sfortunatamente sarà per lui determinante perché da questo calcio di punizione non fischiato e il braccio di Angeletti destro sul giocatore di Martino sembra essere evidente nascerà poi il gold della Settori. Invece Terenzi protesta ingiustamente per questo calcio di punizione non fischiato dalla giacchetta nera in Cespica in verità sul pallone e le immagini sembrano essere chiare. Così come chiare sono le immagini per questa ancata evidente non si tratta di spalla contro spalla con il pallone a distanza di gioco ma di una spinta vigorosa di D'Angelo. Il direttore di gara concede giustamente punizione alla Virtus Fondi dunque corretta anche in questo caso la sua decisione. Così come corretto è anche il provvedimento tecnico del calcio di rigore fischiato con qualche secondo di ritardo. Angeletti impatta infatti in caduta con il gomito sinistro sul pallone che proprio dentro l'ara di rigore è sotto gli occhi dell'arbitro. Invece successivamente ci sono proteste ancora una volta da parte della Settori. Rimostranze che però anche in questo caso sembrano essere fuori luogo. D'Angelo cintura nettamente fra i netti le immagini anche in questo caso non lasciano spazio ad alcun dubbio. Il calcio di punizione poi verrà realizzato e sarà il gol del 3 a 2 della Virtus Fondi. Poi Angeletti subisce questo fallo ma non riusciamo a capire dalle immagini se il fallo che poi genera il gol del 5 a 4 e il tiro libero sia stato commesso da uno dei due giocatori. Non sembrano essere molto chiare le immagini in questo caso. Poi c'è l'ultimo tiro libero fischiato dal direttore di gara a favore della Virtus Fondi che però non genererà la parata di Charla la trattenuta sembra essere reciproca da parte dei due giocatori.